Buon sabato a tutti e bentornati su Mind the Chart, io sono Dista. Il video di stamattina uscirà un pochettino dopo perché io e il buon Marco ieri sera siamo andati a Milano all'Alvin Park organizzato da The Crypto Gateway, è stato un evento fantastico. Spero che ci saranno eventi ancora di questo tipo perché c'erano un sacco di persone molto gasate per quanto riguarda Bitcoin e The Crypto, ci siamo confrontati un sacco quindi è molto bello chiaramente stare in mezzo a varie community con vari pensieri però tutti accomunati dalla stessa passione. Bando alle ciance andiamo a vedere un po' quello che succede, stiamo vedendo che Bitcoin è ancora in fase laterale ma le Ways che stanno facendo stanno accumulando come le pazze e lo vediamo dal grafico, non si vogliono fermare nonostante questa fase ancora incerta di Bitcoin che tutto sommato nessuna red flag perché Bitcoin rimane ancora in un perfetto shape per quanto riguarda il time frame settimanale e potrebbe avere ancora rialzi fino anche agli 80-100 mila dollari, ovviamente ancora nessuno sa nulla potrebbe essere anche in una fase di accumulazione per quanto riguarda Bitcoin però dobbiamo essere sempre pronti all'evenienza di un possibile breakout anche a ribasso perché da come andiamo a vedere, vedete, possiamo andare avanti ancora a stringerci e non abbiamo tanti scenari, o andiamo a fare una Yorlo mensile o andiamo a rompere in IRI quindi secondo me dobbiamo avere sia un piano se scende Bitcoin ma dobbiamo avere anche un piano di vendita se Bitcoin rompe inoltre mai quindi avere un piano ti salva da ogni evenienza io se scende vado un po' a ricaricare le posizioni ovviamente ho vari order limit perché non posso stare sempre davanti al computer anche perché quando avviene un breakout la volatilità sia rialzo che ribasso non può essere sempre comunque controllata se non siamo davanti al computer ci sono vari target che potrebbero raggiungere Bitcoin se va a fare una Yorlo mensile secondo me la fascia interessante va dai 60.000 a scendere fino ai 50-55.000 qua abbiamo secondo me una buona fascia per andare un po' a accumulare ovviamente no consigli finanziari per quanto riguarda la salita il prossimo target potrebbero essere gli 80.000 anche perché se dobbiamo andare a 100.000 non è che andiamo con una lag magari andiamo a fare una Yorai, una Yorlo, una Yorai questo è un po' il pattern che potrebbe seguire ovviamente ognuno deve fare sempre le giuste considerazioni ma andiamo a vedere cosa fanno le Whale stiamo vedendo che il totale balance detenuto dalle Whale è di 5.157.592 Bitcoin e quindi stiamo vedendo un picco massimo dell'accumulazione delle Whale sono quegli indirizzi che hanno oltre 10.000 Bitcoin ma anche indirizzi di media entità quelli che vanno da 1.000 a 10.000 Bitcoin sono aumentati in maniera parabolica quindi vediamo la Tone Chain che non si stanno facendo comunque intimorire da varie situazioni che stiamo vedendo anche perché l'Halving ce lo siamo tolti dallo scatole quindi dopo l'Halving cosa ha bisogno al mercato per salire? un taglio dei tassi senza un taglio dei tassi gli asset risk on faranno fatica a proseguire la salita soprattutto le criptovalute e se andiamo a vedere questo grafico, questo report condiviso da Kaiko stiamo vedendo un po' le varie performance di Bitcoin nei precedenti Halving vedete 2012, 2016, 2020 e adesso l'Halving di 2024 e Kaiko suggerisce che l'ultimo Halving di Bitcoin potrebbe non portare a un trend di alzista nei prossimi 12-18 mesi emerge comunque una situazione macro incerta un non potenziale taglio dei tassi imminente e questo potrebbe andare a impattare ovviamente non possiamo fare riferimento sempre alle vecchie bull run, alle vecchie narrative possiamo avere un'idea ma cambiano sempre le cose che succedono cambiano gli attori, cambiano i motivi di una bull run e quindi non è detto che l'Halving porterà a un'impennata del prezzo io penso ancora che i 100.000 sono un potenziale target possibile ma non certo e quindi molti di voi devono avere bene a mente cosa devono fare su Bitcoin, su Ethereum e sulla maggior parte delle halcoin che al momento non stanno portando a nulla stanno facendo molto poco le halcoin dettate da una dominanza di Bitcoin alle stelle perché c'è ancora incertezza e quindi le persone si rifugiano su Bitcoin ma abbiamo visto anche la stable coin dominance aumentare abbastanza quando soprattutto è una situazione incerta perché gli investitori preferiscono in maniera instable per aspettare poi la direzione che il prezzo di Bitcoin e delle cripto andranno a prendere nel medio e lungo termine inoltre andiamo a vedere un po' cosa ci dice l'ex CEO di BitMEX, ArtRise perché ritiene che le prossime azioni della US Treasury sotto la segretaria Janet Yellen potrebbero influenzare in modo significativo il panorama della liquidità e potenzialmente catalizzare il rally per le criptovalute e azioni e AIS ipotizza diverse strategie non convenzionali che la Treasury potrebbe adottare va anche a includere l'iniezione di liquidità nei mercati per un totale di oltre 1.4 trilioni e in quel caso potrebbe portare a un'impennata delle criptovalute ovviamente vedete quanto siamo correlati lato macro e non andiamo più come 5, 6, 8 anni fa per i fatti nostri mossi da differenti narrative voglio anche ricordarvi che c'è ancora la promozione di BitCat che molti di voi mi hanno chiesto se c'era ancora scadrà a fine mese avrete 10 BGB più 200 USDT di trading bonus ovviamente dovrete completare dei task inoltre avete anche meno 30% di scontavita sulle trading fees BitCat exchange storico che MindChart utilizza per molte molte operazioni e secondo me è uno dei migliori exchange al momento ovviamente fate sempre le vostre considerazioni prima di utilizzare un exchange troverete tutti i link in descrizione voglio anche ricordarvi di fare sempre un salto su MindChart.io perché ci sono un sacco di news un sacco di strumenti, dati economici, tutto gratuito e fate un salto anche su gruppo missione spazio perché troverete comunque airdrop, presale, analisi tecniche abbiamo lanciato anche il nostro Runes Bittrex di Etcher per mintarlo costa dei 5-10 dollari andate a pagare solo le gas fees per i miners a noi non mi tasca nulla è una nuova narrativa secondo me i Runes potrebbero andare moltissimo bene nel prossimo futuro e chiaramente ora il progetto è in mani vostre se facciamo social engagement e crescerà tanto ora siamo di circa 50 holders secondo me potrebbe darci grandi soddisfazioni in ogni modo troverete tutti i link in descrizione prima di continuare andiamo a vedere un exchange interessante che molti di voi so che stanno utilizzando e si chiama Margex al momento non offre moltissime funzionalità ma è user friendly soprattutto per gli utenti alle prime armi comprare cripto si può fare in maniera molto semplice qua possiamo comprare le nostre criptovalute attraverso la transazione on-chain cripto qua vediamo la sezione derivati la sezione converti dove possiamo andare a convertire le nostre cripto abbiamo anche il copy trading che è una sezione molto molto interessante e possiamo anche andare a guadagnare sulle nostre criptovalute vi ricordo che possiamo scaricare l'applicazione attraverso sia iOS che Android e vi ricordo che col nostro referral link e vi ricordo che inserendo il nostro promo code ma in the chart ITA otterrete anche il 20% di bonus sui depositi in ogni modo vi lascerò tutti i link in descrizione se volete provare questo exchange questa diciamo che è un po' la piattaforma come si presenta facile, intuitiva questo diciamo è il nostro account con tutte le funzionalità e se vogliamo fare un trade basta scegliere che tipo di trade vogliamo fare scegliere le leve qua possiamo mettere market quindi entriamo direttamente nel mercato oppure limit entriamo a un ordine prestabilito una volta che poi andiamo a fare i trade li troveremo tutti qua sotto qua abbiamo anche sezione copy trading dove possiamo scegliere i nostri trade preferiti ovviamente dobbiamo fare sempre le nostre ricerche è molto semplice qua potete trovare la sezione tutorial dove vi spiega un po' come utilizzare questa sezione e qua automaticamente abbiamo anche la sezione converti dove possiamo convertire le nostre criptovalute senza passare per la sezione di trading in ogni modo voglio ricordarvi ancora che con il nostro promo code ma in the chart ITA otterrete il 20% sul deposito e avrete anche molti sconti sulle fees troverete tutti i link in descrizione ovviamente abbiamo visto un po' di dati interessanti per quanto riguarda bitcoin whale impazzite e molto altro però stiamo vedendo che le regolamentazioni vanno avanti e diciamocelo chiaro le regolamentazioni giovano soprattutto a favore degli attori istituzionali e non dei retailers non per chi lavora non per le aziende cripto perché andranno sempre a discoraggiare tutto questo settore e lo andiamo a vedere anche da questo articolo ve lo faccio vedere così andiamo un po' a commentarlo le nuove regole nell'ambito del quadro mica potrebbero incoraggiare le grandi banche ad entrare nello spazio DeFi ma vanno a complicare potenzialmente la conformità per i progetti cripto nativi e quindi vedete un altro paletto la relazione della commissione europea sulla DeFi che sarà pubblicata a dicembre 2024 andrà a esaminare la fattibilità di specifiche regolamentazioni per l'ecosistema DeFi sempre la stessa storia sempre a favore loro io sono pro con le regolamentazioni sotto un certo punto di vista ma queste cose a me non piacciono per nulla ma già lo sapete perché già anche ieri sera all'evento se qualcuno di voi c'era aveva una posizione abbastanza ferma ho sempre detto che le regolamentazioni non vanno assolutamente a favore delle criptovalute diciamocelo chiaro stiamo vedendo anche una petizione a sostegno di Coinbase perché il candidato al senato del Massachusetts Jonas Deaton ha presentato una petizione a sostegno di Coinbase nella sua battaglia legale contro la SEC quest'anno ha fatto molto parlare di sé è andata contro molte istituzioni cripto abbiamo visto la condanna di Binance che ha pagato billions di comunque multa ma comunque anche adesso il CEO di Binance che era fuori sotto cauzione quindi aveva pagato una cauzione se non sbaglio di 200 milioni ed era chiaramente agli arresti domiciliari ora vogliono tre anni di carcere quindi stanno andando molto pesanti contro Coinbase e molto molto altro e stiamo vedendo che Deaton un avvocato appassionato di cripto ha presentato una petizione a nome di 4.700 utenti sviluppatori e investitori di Coinbase che desiderano far sentire la loro voce in tribunale molto interessante vedere che almeno qualcuno sta cercando di aiutare questo settore non voglio dilungarmi troppo non voglio andare molto a vedere i grafici oggi anche perché non c'è molto da dire mi raccomando di dare un occhio a tutti i link in descrizione perché troverete tutti i nostri social ma anche i migliori trading bonus sul mercato io con ciò vi saluto e ci vediamo settimana prossima al prossimo cripto appuntamento e ci vediamo Grazie a tutti.